Nelle retrovie numero 13 Olimeda SM, macchina che lascia i concorrenti, c'è lotta per le prime posizioni, Orchidea Lilloo dall'interno cerca di replicare a Oxford, SAS che però riesce a sopravanzarla, c'è stata la squalifica di Oliena, Oxford che passa in 13 e mezzo ai 200, la squalifica che ha colto anche il numero 10 Ok Benedetta. Terza posizione invece per il numero 11 di Seagrei che è partito molto bene dalla seconda fila, primi 400 di gara in 29.2 da parte di Oxford SS che continua a condurre, quando siamo adesso davanti alle tribune la squalifica che coglie anche Outside Go numero 14, il treno esterno di corsa comandato da Our Destiny Fonte che si trascina il numero 9 Orlandos. 43.8 il passaggio ai 600 di corsa da parte di Oxford SS che continua a condurre sempre nei confronti di Orchidea Lilloo. Metà gara che va via in 59.8, andatura piuttosto sollecita per la categoria del treno interno di corsa che per il momento fa valere la posizione, ora prova a spostare Orlandos che va in aggiramento di Our Destiny Fonte e cerca di portarsi all'attacco dei primi, 1.14 e mezzo. Il passaggio al chilometro per Oxford SS sempre con Orchidea in schiena e con Odissea Gray in terza posizione alla corda. All'esterno c'è sempre Orlandos e poi ancora Our Destiny Fonte quando siamo adesso al completamento della piegata. I primi cinque che hanno guadagnato qualcosa rispetto al resto del gruppo ma davanti ora è match con Oxford che cerca di divincolarsi da Orchidea Lilloo, Orchidea che cerca di recuperare qualcosa. Oxford SS che si difende lungo la corda, guadagna Orchidea, guadagna ancora ma è troppo poco e Oxford SS viene a concludere davanti a Orchidea Lilloo mentre per il terzo c'è il numero 6, Our Destiny Fonte il quarto, il nove Orlandos, il quinto probabilmente il numero 1, Otto Maso, MTT ma rivedremo poi per la quarta e la quinta posizione 1,58 e 6 il risponso cronometrico per Oxford SS Erwin Bott alla guida e al training i colori del signor Alvin Lutger Schochemull la vittoria di questo figlio di Diamond Way e Glide B. Nimble in tempo al chilometro che recita un positivo 1,14 e 1 ed ecco le immagini sul traguardo il 7 al primo posto, il 4 al secondo a completare la scommessa trisse il numero 6 di Our Destiny Fonte per il quartè, il numero 9 di Orlandos e per il quinte il numero 1 di Otto Maso, MTT è tutto per il convegno di Erno, l'ippodromo di Tordivalle